Un memorandum d'intesa tra Sapienza e Finmeccanica per favorire la progettazione e lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione nelle aree Cyber Intelligence e Information Security, questi contenuti dell'accordo firmato stamattina presso il Palazzo del Rettorato della Sapienza dal Chief Technology Officer di Finmeccanica Lorenzo Fiori. Se la strada più consolidata per i dati sensibili delle aziende e delle amministrazioni pubbliche è frapporre ostacoli all'accesso informatico da parte degli hacker e dei cracker, con la Cyber Intelligence si agisce cercando di prevenire la criticità laddove si vanno costituendo attraverso un'analisi ponderata delle informazioni in rete, come sottolineato dal Rettore della Sapienza Luigi Frati. È un accordo tra l'area dell'informatica nostra, dell'ICT e Finmeccanica sulla Cyber Security. Oggigiorno tutto il mondo dell'ICT ha bisogno di avere la certezza delle procedure, di quello che viene trasmesso non soltanto dal puntista documentario ma anche dal puntista delle informazioni che sono ormai quanto più vario possibile. Bene, noi abbiamo un settore specializzato su questo, la sinergia con una delle industrie italiane più competitive dal punto di vista scientifico e tecnologico nel mondo rappresenta un passo obbligato che non potevamo non fare, l'incontro fra due colossi e questo per rilanciare se mai ce ne fosse stato bisogno e comunque per potenziare lo sviluppo della ricerca tecnologica in questo settore. A parlare della Cyber Technology, il Chief Technology Officer di Finmeccanica, Lorenzo Fiori. La Cyber Technology è una tecnologia che nasce, se vogliamo, dal fatto che il cyberspace sta diventando una nuova dimensione attraverso la quale si possono viricolare tante cose positive ma si possono anche creare tanti problemi. Quindi la Cyber Technology cerca di indirizzare lo sforzo industriale e anche scientifico nel combattere quella che è la cosiddetta minaccia cyber, ovvero il malware, che ha svariate forme, svariati obiettivi in termini di target da attaccare e quindi con questa tecnologia si cerca di dare una risposta proattiva, efficace, che cerchi anche di prevenire l'emergenza della minaccia e quindi in qualche maniera combatterla prima ancora che questa emerga. Intervenuto alla firma dell'accordo il docente di ingegneria informatica Roberto Baldoni. Questo accordo mira praticamente a realizzare un centro d'eccellenza basato su Roma Sapienza per quanto concerne la Cyber Intelligence che è quella scienza che permette di collezionare eventi che accadono nell'ambiente, che può essere fisico o un ambiente internet, correlarli tra loro e dare informazioni di più alto livello a decision makers che possono poi prendere le loro decisioni basandosi su un'informazione più completa.